Musica Prorogato il divieto di transito veicolare via l'Europa a Torre del Greco. E' di queste ore l'ordinanza firma del dirigente Salvatore Visone che proroga ulteriormente la chiusura al transito veicolare di un tratto della strada prevista dalla precedente ordinanza fino al 31 ottobre al fine di consentire i lavori finalizzati al collettamento dei reflui di depurazione di foce sarno. Il nuovo dispositivo proroga il divieto di transito veicolare eccetto mezzi autorizzati dal 1 novembre al 14 dicembre per il tratto che va da Via Gurgo fino alla cabina elettrica ubicata di fronte al Civico 32. Il provvedimento nasce a seguito del nuovo cronoprogramma dei lavori trasmesso dalla società incaricata dell'esecuzione degli interventi e concordato con i responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale nella riunione dello scorso 21 ottobre dal quale si evince la necessità di estendere l'area di cantiere fino a Via Gurgo.